Daniele Quarto, amministratore di Cube, tu ci hai chiamato per rispondere alle nostre domande in merito al bando Natale a Bari, di cui voi siete stati aggiudicatari. Cominciamo da piantumazione entro il 6 gennaio, perché non è stata fatta? Perché data la novità della piantumazione, ovvero gli eventi culturali vanno compensati, quindi è una novità, il Comune ha dovuto gestire con i tempi, che comunque poi sono stati anche decisamente accelerati, la creazione di un nuovo giardino, che è una cosa che normalmente un Comune gestisce in un periodo di circa due anni, per cui la macchina organizzativa si è mossa a dicembre e su indicazione dell'ufficio Giardini si è capito che i tempi non erano quelli di qualche giorno, ma nella volontà di accelerare il più possibile sono diventati di fatto di circa 60 giorni. La deroga di questi circa 60 giorni è un ITER che è di peso dal nostro cliente, in quel momento che è l'ente pubblico, nella normale temperare degli ITER amministrativi che li competono. Il bando richiedeva espressamente di indicare un accreditato ente certificatore per la CO2 consumata. Chi è il vostro ente? Noi abbiamo indicato, sin dalla stesura del bando avvenuta a metà novembre, Rete Clima, che è un ente di rilevanza nazionale che certifica le emissioni e alle eventualità le annulla, utilizzando dei carbon sink forestali presso cui ha dei percorsi dove piantare degli alberi in maniera certificata e tracciabile anche digitalmente. Quindi voi con Rete Clima avete un contratto stilato all'avvitare del bando? Noi abbiamo un accordo preventivo stilato quando abbiamo scritto il bando, nella incertezza chiaramente dell'esito. Dopodiché abbiamo confermato a loro l'incarico. Rete Clima ha quindi prodotto il calcolo del CO2 consumato per la realizzazione degli eventi e in secondo luogo ha realizzato la compensazione piantumando questi alberi in un carbon sink. Carbon sink che si trova dove? Il carbon sink di Rete Clima si trova a Giussano, che è nel nord Italia, ed è un carbon sink forestale certificato a livello europeo. Quando sono state piantumate? Le nostre piante del carbon sink a Giussano sono state piantumate secondo l'iter di Rete Clima. Nei giorni successivi al 6 gennaio, diciamo che normalmente questo genere di entiti chiedono un tempo totale di 90 giorni per l'effettuazione della piantumazione che prevede poi la verifica che le piante abbiano attecchito, che gli alberi siano in uno stato di salute, onde poter al fine ottenere il documento della compensazione effettuata che contiene anche dei codici di sociabilità digitali che permettono in maniera appunto digitale in ogni momento e anche pubblicamente di verificare che questa piantumazione è stata veramente effettuata. Quindi noi in questo momento siamo in attesa di ricevere questa documentazione che è una documentazione importante anche in termini volumetrici, proprio di spessore e quindi insomma per quanto mi riguarda siamo adempienti, insomma siamo a posto. Assodato che a Baio non si potevano piantumare perché non c'era carbon sink e quindi non eravamo neanche nei due anni nell'iter indicato dall'ufficio giardini, per quale motivo le vostre piante, quelle che stavano a Giussano, sono state piantumate oltre il 6 gennaio, termine indicato dal bando? Perché noi abbiamo contattato, abbiamo seguito l'iter in maniera perentoria nei tempi semplicemente ci siamo resi conto i primi giorni di gennaio che il nostro cliente aveva bisogno di più tempo per darci l'indicazione tecnica finale sul dove piantare queste piante. Dato che il nostro ente certificatore ritiene che una certificazione, la sua certificazione si possa fare bene in un carbon sink, abbiamo deciso di perseguire entrambe le ipotesi, sia quella della piantumazione nel carbon sink certificato, in questo caso ripeto di Giussano, sia della piantumazione che per quanto ci riguarda, quindi una doppia piantumazione, nella nostra città, nell'area individuata intorno ai primi giorni di marzo dall'ufficio Giardini della pineta di San Francesco. Che rapporti avete voi con EcoFesta Puglia? Non so chi siano, eravamo in due le aziende coinvolte nella piantumazione, Cube Comunicazione che ha scelto Rete Clima e la società Bus Culture SRL, con cui abbiamo chiaramente rapporti di amicizia, che ha effettuato la compensazione degli eventi del Capodanno a Bari. Personalmente ritengo che ottemperare a un bando dove c'è scritto che va certificato che tu non stai consumando un'idea carbonica in più rispetto a quello che avevi concordato, sia un dovere civico, dovere civico a cui io ho ottemperato pienamente con sette giorni di ritardo, dovuti dal fatto che l'ufficio Giardini ha rilevato che l'area identificata dall'assessorato della cultura avrebbe necessitato di due anni di tempo per fare la compensazione. Quindi di fatto, ammettendo di non essere ottemperati al bando perché è piantumato oltre il 6 gennaio, di fatto state riconoscendo la responsabilità del Comune, il quale quantomeno vi ha messo nero su bianco che non potrete rispettare quei termini. Un bando pubblico è un contratto. In un contratto ci sono normalmente almeno due parti. Nel nostro caso era il Cube Comunicazione e la controparte. La controparte ha derogato nei tempi perché non ci ha messo nella disponibilità l'area in cui effettuò la piantumazione nei giorni di dicembre, nei primi giorni di gennaio quando noi li abbiamo sollecitati. Quindi noi abbiamo preso atto di questa deroga e abbiamo agito per come abbiamo ritenuto essere giusto nella nostra volontà come di fatto con i tuoi documenti che hai in mano tuttora, si certifica di ottemperare agli accordi presi non con l'assessorato alle culture ma con il Comune di Bari che gestisce i soldi dei baresi.